rieccoci qua rieccoci qua allora di che parliamo parliamo un po di sta polemica del cazzo sorta in merito a una frase di andanovic mi raccomando non fischiare niente rivolta all'arbitro sozza ci sono alcuni tifosi napoletani non la società che si sono un po risentiti di questa roba qua o ma basta ma basta cosa dite adesso si chiama in causa le mancate ammunizioni di barella non ricordo di chi altri per farli su caraschelia ma non rompe di coglioni ma possibile che ogni volta dobbiamo stare ad assistere a queste porcherie a queste sciocchezze a queste polemiche basate sul nulla sul nulla e fratello mio ma ragazzi a parte che questa per me è una grossa ipocrisia perché poi raga parliamoci chiaro arbitri e calciatori si conoscono si conoscono e chi dice il contrario chi dice il contrario o reputa scandaloso tutto questo non capisce un cazzo di calcio tutto qua ragazzi io ho assistito a bordo campo per lavoro a partite di eccellenza partite di serie d e se quando un calciatore è conosciuto è molto spesso l'arbitro lo chiama per nome lo chiama per cognome cioè tizio perché bene o male si conoscono si sanno come un calciatore reagisce sanno su un giocatore falloso sanno su un giocatore simula sanno su un giocatore così sanno su un giocatore cosa sono esseri umani dopo tutto sono esseri umani ma non ci rompete la minchia con queste robe qua poi a parte il fatto che sta polemica io ho ritenuto di non fare il video perché riteniamo una puttanata colossale allora ragazzi parliamoci chiaro parliamoci chiaro sozza nativo di milano giusto nativo di milano giusto e qualcuno ha avanzato delle eccezioni perché poteva favorire l'inter tutte ste robe qua ragazzi ora buon senso vuole nativo di milano perché un nativo di palermo un nativo di bologna un nativo di pescara non può essere interista non può essere interista non poti fare l'inter ma che cazzo mi venite a raccontare proprio con robe stupide stupide quindi per paradosso l'interista lo puoi beccare anche dalla sezione di canicattì o di nuoro o di oristano questo il discorso cioè raga ma di che cosa stiamo parlando poi naturalmente sta la sensibilità di poi sta la sensibilità dell'uomo dell'arbitro magari becchi proprio il tifoso interista questa la sensibilità dell'uomo raga ma avete mai giocato a calcio in seconda in terza categoria i guardaline li fanno gli accompagnatori delle due squadre a livello giovanile i guardaline non li manda la federazione la federazione ti manda solo l'arbitro i guardaline li mandano cioè li fanno i dirigenti accompagnatori delle due squadre cioè di che cazzo mi venite a parlare che cosa mi venite a parlare ma io no veramente non so ci sono dei dirigenti addetti proprio a fare la mansione ma avete mai giocato a calcio e dai su e dai e dai non dite ste cazzate o ragazzi io posso potrei anche capire un incontro spezia lecce tu mi mandi un arbitro spezzino ok lì è chiaro ed evidente che mi mandi un arbitro che non sia delle due sezioni ma stiamo parlando con tutto il rispetto dello spezia e del lecce non di una squadra che ha milioni di tifosi come l'inter o come il milano come la juventus come lo stesso napoli la roma la lazio che potresti beccarlo in tutta italia il tifoso romanista interista juventino napoletano potresti beccarlo in tutta italia anche a bari anche a foggia anche a taranto anche a crotone anche a reggio calabria anche a potenza anche a matera anche a parma piacenza lucca non so se mi se mi sono spiegato c'è il rischio di beccare l'arbitro tifoso della squadra che arbitra inter mila della grande squadra è praticamente ovunque e trovo francamente un'ipocrisia tutte ste polemiche tutte ste robe qua poi raga ma ora veramente ma voi ce lo vedete andano vi ci accordarsi con gli arbitri ma dai ma per favore ma smettetela con queste con queste stronzate noi non cresceremo mai noi così non cresceremo mai mai poi qualche pagina juventina giustamente faceva notare e ma se fosse capitato a un calciatore della juve che avesse detto all'arbitro mi raccomando non fischiare niente ricordo la panna che giustamente la panna che fu montata all'epoca di inter juve di orsato di allegri tutte ste robe qua ragazzi ragazzi ma quando la finiamo quando la finiamo di fare i moralisti senza morale quando la finiamo in italia non mi riferisco solo al calcio cioè ragazzi ma davvero ma davvero fate cioè siamo il paese che ha avuto magistrati palesemente schierati da una parte politica medici palesemente schierati dalla parte politica è probabile che abbiamo oggi addirittura magistrati tifosi indagare su altre squadre perché può succedere qui non è la partita di calcio qui è la vita qui è gente che ti manda in galera è gente che decide della tua salute palesemente schierati da una parte da una parte politica e qua il problema è l'arbitro di calcio ma veramente fate ma veramente il problema dell'italia è l'arbitro di calcio è l'arbitro sozza di milano che tra l'altro per me ha arbitrato benissimo ieri milano e se fosse milanista e se fosse giuventino se fosse giuventino o milanista si fosse saputo e magari la partita fosse finita in parità che apri di cielo che altre polemiche sarebbero successe no ma ragazzi quando cazzo cresciamo quando cazzo impariamo ad accertare serenamente il verdetto del campo quando impareremo una volta ad accettarlo nella vita quando c'è davvero ma polemiche sul nulla polemiche sul nulla io non so cosa ne pensiate voi ma io sono dell'opinione che è giunto anche il momento di dire basta a tutte queste fanfaronate perché non vi siete accorti non vi siete proprio accorti magari chi ha la mia età o un po' più giovane di me non ve ne siete accorti che da quando c'è questa moda di evocare complotti di sospetti da quando c'è sta roba qui il calcio italiano è andato di declino in declino non ve ne siete ancora accorti non vi è ancora entrata nella zucca sta roba eh che dal 98 in poi il nostro calcio è andato è andato regredendo via via regredendo non ve ne siete ancora accorti e giustamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino eh ma qua si sprofonda anzi si è già sprofondati tutti si è già sprofondati tutti io dal 2010 in poi abbiamo avuto la Juve che ha perso due finali con gli altri che sfottivano l'Inter che ha perso una finale d'Europa League e noi giustamente li abbiamo sfottuti la Roma che ha vinto l'Europa League e ha vinto la coppetta tutti atteggiamenti sbagliati che non ci fanno chiudere gli occhi su di un declino che ormai è palese ragazzi abbiamo saltato due mondiali due mondiali abbiamo saltato tre olimpiadi consecutive a livello calcistico e gli unici due mondiali in cui abbiamo partecipato dopo il 2006 siamo ucciti ai gironi con una sola partita vinta ragazzi sarebbe anche ora di smetterla con queste robe qua iscrivetevi al canale